dobbiamo andare a parlare con... cosa sono queste cose? non riesco a ricordare vabbè ce lo dice lui dove dobbiamo andare va benissimo così questo ma nooodles sono famosa in torce no, 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 no il nostro militer è un po' di rin oh oh Rai 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 Congratulation I just thought of a new flavor You can try the member Okay I heard that you turned the Iron Dogs' prison upside down You have truly avenged Master Wu Your name suggests that Oh, don't laugh at me Oh, bro It's not a third Well, no Scena Then it's all weapon But But Thank you for your business You found it so quick Wow Wow I found it so quick I found it so quick Did you find it? Okay So let's go all the way together Now it's the song There's no magic There's no magic There's no magic There's no magic No magic No magic There's no magic Think of Flying Mouse's key The Dicto Two I've got Gold Silver Gold 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 questo cosa vuole sì questo è quello che abiti sedano lento come una morte andiamo sopra e andiamo a parlare col tizio ah shit in the dark if the legion gets its hands on the spark it will become even more powerful and will mean the end of torts cicero's next target is is the western range where bovie is the western range is a quiet place that has been isolated from torts city for many years follow the spark and i'll find cicero if you want to stop cicero i'll go to the western range and warn bovie that the legion may attack at any moment after the war bovie withdrew to don't worry if the legion try something if I find the spark in the western range I will the only way to the western range is via the cable car station outside the city ok da questo lato in realtà abbiamo così tanto da vedere qui ok 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 parla ok 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 La posta allegra. non cammino ah, grandi binali che sta fuori capisco che non avrebbe camminato nella mia mamma ah finalmente ah oh I only listen to the dupe. A rat which I can squeeze to a pulp with one hand. You talk pretty tough for an iron dog that I could smash with one hand. All right, in the other hand I'll put the pug. Oh, yes. Eh, dai! Vai avanti! Sono morto! Oh, un povero. Sono controllo che lì non si... Ok, ehm... Oh, si te mi fai con questo, ecco. Oh, wow! No, 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 no! I'm going to go! No No non c'è nessuno facciamo anche questo e vinta quindi ce la facciamo a sollevarci la testa wow Wow, tu devi essere l'amore di Ducca. Il Rabbid Hero. Grazie per il vostro help, Rabbid Hero. Il cable car station è stato sotto la Ratt Gang's controllo. Abandoned tunnel? Il blasto legion ha dismantato tutti i cables. Fortuni... Mh, mh. Per defendere la regione, il tunnel era pieno di defensa... Hey, Rabbid Hero, quando ti arrivi alla regione, remind... Why should someone like you from the Ratt Gang care about the West... Everyone in the Western Range is hardcore anti-Legion. We Rats may be timid, but we dream a bit... Hmph, I won't. I'll remind them for you. Hmph... 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 Ah, guardi... Si rigenera... Ah, ottimo! Ma... Quelle cose sono dentate... Eh, infatti andava soltato il pari. Quelle dentata? Quella no. Eh, devo salire lì sopra. Perché non si va? Ahhhh... non c'è non c'è non c'è un pittorano non c'è il altro mondo di là non c'è il c'è il no no faccio ci torno india no faccio ci torno india no faccio niente niente ah e 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 oh e 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 come caccia devo fare quando mi colpiscono mi rispedisce indietro quindi e 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 ok andiamo avanti e e e parla e e e e ok sto spando un sacco di cavolo e e e e e e e troppa chiacca non trovo sblocca sblocca vediamo la cosa mi fa sbloccare abbiamo 400 andiamo e e e oh ok and ora questa volta è qui Ehi Stranger! Raiton, a former subordinate of Bovee, has urgent news to report. Bovee ain't home. He's at the mine, dealing with mine demon. Is the mine in Dane? Oh, there's a nasty mine demon in the mine. Injured a lot of our miners. Bovee is trying to... If you used to serve under him, you might be able to help him out. Open the mine door downstairs, then ride the winch down to the mine. All right, okay. Okay. tutta la zona della galleria abbandonata l'abbiamo fatta è la miniera ce la facciamo la prossima volta mi sembra una cosa più che scendere altri 4 km ah perfetto e dopo questo salvataggio si non rimane che a salutarci e rimandare alla prossima ciao ciao ciao